Un cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si registrano rallentamenti tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci per traffico intenso in direzione Bologna. In A11 fare invece attenzione ad un veicolo fermo in avaria tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia si ricorda della riduzione di carreggiata a causa di lavori tra Scarlino, Scalo e Riotorto in direzione Cecina. Mentre sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato sempre a causa di lavori tra bagni di lucca e fabbriche. Uno sguardo a Firenze, cantieri della tramvia, si ricorda che fino al 10 agosto rimarrà chiusa via Valfonda con deviazione dei mezzi pubblici sull'itinerario Piazza della Stazione e Via della Scala. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!